ciao a tutti ragazzi eccoci qua e ben ritrovati pagelle dei calciatori oggi abbiamo fatto la pagella di allegri isolata la trovate qua sul canale è uscita intorno all'ora di pranzo ci vengo a puntualizzare una cosa no nel senso che ieri sera vi dicevo che questo tipo di prestazione non è influenzata dagli infortuni nel senso non è che se hai tanti assenti allora vai a firenze a fare una prestazione in cui nel primo tempo davvero non ti preoccupi assolutamente della fase offensiva e questo lo sottolineo ancora una volta ma nel ragionamento generale di quella che è stata la partita e nella valutazione del risultato nella valutazione della partita stessa di quello che ci portiamo via dalla partita è ovvio che non possiamo fare a meno di parlare anche dei valori tecnici purtroppo che non erano presenti nella rosa della juve quindi sono due discorsi separati ma molto simili e cioè la prestazione non viene intaccata per quanto mi riguarda non tanto per gli errori tecnici no proprio come viene preparata e cioè facciamo una gara in cui siamo passivi nella zona di non possesso palla nella fase non possesso palla nella nostra zona praticamente sempre 10 11 citroni nel pallone no questo non è un discorso di assenti questo è un discorso che la juventus ha preparato questa gara nel primo tempo nel secondo tempo leggermente meglio ma non per via degli assenti o magari anche sì nel senso che magari con dibala avreste avuto più palleggio quello che volete però ovviamente anche con questa squadra la juventus poteva approcciare la partita in maniera diversa e questa è la grande differenza tra la valutazione degli assenti sulla prestazione e la valutazione degli assenti sulla partita stessa perché la juve che va a firenze e poi vince una partita con tutte queste assenze e la vince in maniera sporca brutta quella che volete però porta a casa è ovvio che poi qui sì che pensi diavolo abbiamo vinto firenze nonostante difficoltà nonostante l'assenza quindi questo solo per chiarire questa posizione se ci siete tutti iniziamo immediatamente Perin 6 più volevo dargli addirittura 6 e mezzo perché in un paio di occasioni mi è sembrato attento anche sulle punizioni ha messo bene la barriera si è mosso con i tempi giusti anche quando non vedeva partire il pallone c'è una piccola sbavatura nella partita di Perin che nel primo tempo quel passaggio in verticale a cercare un centrocampista dove sbaglia completamente il giocatore fiorentina avrebbe potuto sicuramente segnare lì abbiamo completamente regalato un'occasione fiorentina e sono cose che non possiamo assolutamente permetterci quella la grande sbavatura della gara di Perin perché sennò sarebbe stato anche 6 e mezzo Delit e Danilo li metto insieme perché sono un blocco marmoreo ormai questi due giocatori sono veramente fantastici io sono contentissimo di averne la juventus sia Delit che Danilo Delit è sempre stato no battezzato come il capitano futuro invece il capitano effettivo ieri sera era Danilo quindi è un po' come parlare i totti e dei rossi no dei tempi della Roma o del Piero e Buffon da noi anche se non c'era questo discorso dell'anzianità rispetto alla gioventù dell'altro però sono due giocatori che danno tanto alla maglia della Juventus credono tanto nel valore della Juventus nei valori della Juventus e in questa stagione stessa e stanno trascinando i compagni nel momento più complicato della stagione infatti in questo momento buio sono due i quali dobbiamo per forza di cose aggrapparci con forza sia Delit che Danilo e sono contento di averli visti fare un'altra prestazione attenta prestazione da sei e mezzo secondo me solida e se ieri sera riusciamo a mantenere lo zero sotto il profilo dei gol subiti oltre alla nostra buona stella e all'imprecisione sotto a porta di Icone e anche tanto per merito di questi due ragazzi arrivati con Sarri e cresciuti sia con Pirlo che con allegri quindi bene tutti e tra gli allenatori che li hanno allenati sicuramente qualcosa hanno preso da tutti però sono giocatori importanti per questa Juve male invece di Sciglio male 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 madonna si è impazzito di Sciglio lo puntavano sempre lo saltavano sempre poi riuscito magari anche con Icone in un certo momento a portarlo fuori a farlo andare sul piede forte su piede debole non sul piede forte per tirare in porta però una partita era mal di testa per De Sciglio secondo me quando ieri sera ha chiuso gli occhi si è sognato ancora Icone che lo puntava lo driblava era lì quindi sì è una partita secondo me da 5 quella di De Sciglio senza stare qua a parlarne troppo Pellegrini 5 e mezzo non mi ha fatto impazzire allora Pellegrini è il classico giocatore altalenante cioè all'interno della stessa partita ieri ho visto più fasi di Pellegrini c'è stata una fase in cui mi convinceva in cui spingeva in cui attaccava era propositivo una fase invece in cui era molto timido cercava di fare qualche giochino qualche figata con i piedi ma si preoccupava meno della sua stanza quindi secondo me Pellegrini deve migliorare in questo aspetto perché non è ancora al 100% il giocatore titolare da Juventus a sinistra però in questa stagione in cui Alexandro è regredito totalmente in cui De Sciglio ha avuto un buon momento e adesso sta facendo un po' fatica comunque ieri sera ha giocato addirittura difensore centrale quindi sicuramente nemmeno il suo ruolo Pellegrini secondo me dovrebbe cercare di dare quel qualcosa in più non è stata una brutta prestazione da parte di Pellegrini ma non mi ha nemmeno convinto al 100% da qui che nasce questo 5% facciamo 6% meno dai invece che 5,5% 6% meno aumentiamo leggermente però è stata una prestazione dalle due facce di Pellegrini che ancora non riesce a convincermi al 100% e invece purtroppo è stata una prestazione da 5% quella di Marley che ora qua c'è da fare un discorso abbastanza grosso nel senso che noi chiediamo sempre abbiamo tutti la speranza di vedere questi giocatori dell'under che possano entrare nei meccanismi della Juventus ma non dimentichiamoci mai che sono giocatori che giocano in Serie C in questo momento poi Ache ha avuto delle esperienze Ligan ha giocato addirittura delle partite in Champions League è la terza apparizione con la Juventus in questa stagione dopo l'ingresso in Coppa Italia con la Sampdoria l'ingresso in Serie A con l'Atalanta ieri sera titolare in Coppa Italia semifinale contro la Fiorentina Firenze quindi una partita tosta, complicata, difficile che Ache non ha giocato al meglio qualcuno potrebbe dirmi eh però era anche fuori ruolo sì è vero non è un esterno a tutta fascia nel 3-5-2 però ho visto proprio degli errori in questo momento di posizioni di Ache nel senso tante volte lui voleva dribblare anche se era ridosso della nostra zona difensiva lì non puoi dribblare, lì devi uscire in palleggio perché se vai a fare il dribbling con la squadra che magari sta salendo, sbagli il dribbling, prendi l'imbucata è successo anche ieri sera con poi Danilo costretto a far fallo regaliamo una possibilità alla Fiorentina da una zona un po' delicata e noi dobbiamo cercare di evitare queste cose come prima parlavamo di Perin e qua si vede il discorso che Ache è un giocatore disabituato a giocare a questi livelli ma è per forza di cose, io sono dell'idea che i giovani debbano giocare e debbano sbagliare quindi io sono contento del fatto che ieri sera Ache abbia giocato non sono contento del 5 ma sono assolutamente sicuro del fatto che qualcosa lui ieri sera se lo sarà portato a casa, che gli tornerà utile in futuro fa parte del percorso di crescita di questi giocatori che devono passare ragazzi dalla Serie C nemmeno alla Serie B nemmeno alla Serie A, la Serie A Juventus quindi è un passaggio molto molto importante contento di averlo visto dal primo minuto mi dispiace che sia uscito nell'intervallo mi sarebbe piaciuto vederlo un po' di più probabilmente Allegri voleva cercare di cambiare anche un po' marcia nonostante Quadrado non ci sia riuscito da subito ma poi ne parleremo nella sua pagella Locatelli e Rabiot li metto insieme allora Locatelli ragazzi è in una fase assolutamente di difficoltà e questo spiega anche un po' perché Allegri nelle ultime partite lo stava tenendo fuori ora necessità virtù abbiamo tre centrocampisti in attesa del recupero che ne so di Bernardeschi che magari potrebbe andare a occupare uno slot a centrocampo abbiamo veramente bisogno di far stringere i denti a questi calciatori ma Locatelli in una fase di calo non una partita insufficiente quella di Locatelli ci mancherebbe però proprio di minimo da compitino è un 6 da compitino quello di Locatelli che inizia a essere stanco anche lui ma è normale ragazzi essere stanchi a questo punto della stagione è normalissimo poi sicuramente la Juve ha lavorato con dei carichi strani per arrivare pronto non so a quale data immagino il ritorno col Villareal ma lo stiamo vedendo dai tanti infortuni e da tanti giocatori che sembrano veramente appesantiti l'altro giorno dicevo sembrava di avere un frigorifero sulla schiena non andavamo la sensazione è ancora un po' questa qui e invece Rabiot è la solita partita poi paradossalmente la risolve Rabiot quando costringe Odrezola al cambio ed è intravenuto adesso questa è una battuta concedetemela ma anche sul finale Rabiot che con quello spunto negli ultimi minuti poi la palla arriva a quadrado però dentro la partita secondo me di Rabiot c'è stato poco la solita partita era compitino anche di Rabiot secondo me se Locatelli e Rabiot sono sufficienti mi hanno fatto davvero il minimo delle loro possibilità qualche giocata all'interno della partita ma un po' troppo poco invece voglio assolutamente premiare Artur perché secondo me il 6 e mezzo se lo porta a casa è la seconda partita di fila che secondo me Artur è a mani basse il miglior centrocampista della Juventus e questa cosa è assolutamente positiva perché Artur era un po' il grande dubbio no? di tante persone in quella posizione lì con Massimiliano Allegri invece in questo momento della stagione sta venendo fuori Artur complice anche il fatto che comunque ha giocato meno partite rispetto agli altri quindi magari è più fresco ha avuto anche un infortunio quindi ha dovuto preparare fare la preparazione successivamente quindi sicuramente Artur gira con dei giri del motore differenti rispetto a tanti altri in questo momento si sta vedendo la differenza di un giocatore un po' più fresco nei confronti dei giocatori che sono un po' più spremuti dal fatto che hanno giocato tutte le partite e questa cosa è positiva sperando che anche quelli che torneranno dagli infortuni possano essere un po' più leggeri quadrado 6 e mezzo allora su Juan bisogna fare due parole perché non mi sta piacendo l'atteggiamento di Quadrado l'ho detto anche ieri sera nel post partita mi sembra che Quadrado stia un po' ragionando sul discorso di io ho tirato avanti la carretta fino adesso quindi sono senatore e quindi mi posso permettere di fare più cose rispetto agli altri anche solo quella punizione che tira è vero che lui con la Sampdoria aveva fatto gol era il primo gol su punizione da non so quanti anni però lì c'era anche Vlaovic che aveva la possibilità di tiro e Quadrado proprio orecchie da americante ha tirato come quando arriva in area e c'è la possibilità di mettere in mezzo c'è Vlaovic, Morata e chi era l'altro? Rabiot probabilmente sul secondo pallo e Quadrado va a tirare quindi sono cose, sono dettagli questi che ti fanno capire che Quadrado in questo momento è lontano dalla mentalità del Quadrado uomo squadra dell'anno scorso è un Quadrado molto più che ragiona per se stesso io non so se è legato al discorso del fatto che vuole farsi rinnovare il contratto vuole mettersi in mostra per questa cosa ma anche solo il fatto di continuare a voler cercare di prendere sempre questi falli in questo momento Quadrado sta giocando tanto per prendere il fallo più che per saltare l'uomo lo si vede, lo si percepisce molto chiaramente quindi è un Quadrado differente poi lo spunto è suo il finale, noi vinciamo sta partita perché Quadrado va a puntare esattamente come a Torino uguale, identico e quindi se è in mezzo se lo porta a casa indubbiamente però proprio un Quadrado a livello di atteggiamento differente oltre al fatto che è stanco e questo lo sappiamo indubbiamente proprio a livello di testa non so se lo sto notando solo io ma da qualche partita a questa parte mi pare una roba evidente Ken e Vlaovic allora Vlaovic 5 e mezzo, Ken 5 una partita difficile per i due attaccanti complicata perché palle giocabili non ne sono mai arrivate quelle poche che sono arrivate Vlaovic le ha gestite leggermente meglio rispetto a Ken e da qui nasce il mezzo voto di differenza Ken male perché purtroppo davvero anche quei due palloni che gli sono arrivati non è riuscito a tenerli Vlaovic è andato a fare sportellate l'unico tiro in porta avviene proprio sul lancio lungo su Vlaovic che prova il pallonetto e per poco addirittura non va a segnare un gol in un momento in cui la Juventus era completamente fuori dalla partita se facciamo queste partite compatti dietro il pallone passivi ad accettare in realtà abbiamo fatto anche dei momenti in cui pressavamo alto quando Arthur veniva andava a prendersi Torreira però troppa passività cioè non è tanto l'altezza del pressing è un pressing attivo o un pressing passivo e noi ieri sera abbiamo accettato di fare un pressing molto passivo di pallone agli attaccanti non ne sono mai arrivati gli attaccanti si sono visti solo quando andavano appunto a pressare quel poco sui difensori dopo ovvio che un attaccante diventa quasi inesistente in questo momento in questo complesso di gioco è quello che dico sempre in questo momento noi abbiamo uno che gli arriva la palla e fa gol dobbiamo cercare di far arrivare più palle possibili fase di non possesso palla non tremendi ieri sera nemmeno fantastici non tremendi abbiamo rischiato comunque di prendere gol in fase di possesso con una volta completamente nulli completamente nulli poi è il discorso che facciamo in apertura gli assenti possono andare ad influire sulla preparazione della partita io vi dico che no perché secondo me più di così si poteva fare sotto quel punto di vista nonostante gli assenti l'assente ti dà che ti giri e dici diavolo c'ho Morate Quadrado e più i ragazzi come a che e invece italiano ha messo dentro tanti giocatori diversi ha avuto tante possibilità di cambiare la partita quello sì quello indubbiamente noi abbiamo cercato di fare veramente la nostra partita più compatta cauta cautelativa possibile e ci è andata molto molto bene però purtroppo questa cosa non andrà sempre così noi abbiamo molto bisogno di servire gli attaccanti che sia Vlaovic che sia Ken o che sia lo stesso Morata perché poi Morata entra e secondo me Morata in pochi minuti fa meglio di quanto non avesse fatto Ken nella gestione di certi palloni non riesce ad accendere Vlaovic ma dopo Vlaovic era un pochino nervosino anche stava sentendo un po' la serata la situazione Morata invece secondo me è entrato bene ha avuto un buon impatto sulla partita si prende il 6 è da subentrante niente di spettacolare niente di atomico però direi che qualche cosa fatta bene l'ha fatta vedere però è stata una partita molto difficile per chi gioca in attacco e sono le classiche partite in cui non ti diverti se giochi di davanti e quindi queste erano le pagelle signori allegri l'abbiamo portata stamattina adesso i giocatori fatemi sapere anche le vostre pagelle qui sotto nei commenti e da domani ricominceremo a pensare alla Serie A per il momento un pezzettino di Coppa l'abbiamo messo via grazie a tutti grazie a tutti